Ciao amiche, ciao amici, come usare gli antagonisti? Questo video per rispondere a Silvana che mi segue su YouTube. Ora, gli antagonisti sono importanti perché generano un vincolo, generano un blocco, generano anche un fenomeno che si chiama preselezione. Se una persona è, come dire, desiderata da altri, allora deve essere desiderabile. E poi generano, stimolano la perdita, stimolano l'abbandono, hanno tutta una serie di... vanno usati nel modo giusto però e devono essere antagonisti trasgressivi se ha a che fare con una persona istituzionale, devono essere istituzionali se ha a che fare con una persona trasgressiva, in modo tale da non dargli riferimenti perché se io sono un grande cesare istituzionale temerò poco altri antagonisti istituzionali. Viceversa, se sono, diciamo, molto trasgressivo temerò poco un altro antagonista trasgressivo. è l'inverso che è difficile gestire. Come introdurre? Beh, come introdurre gli antagonisti possono essere reali o presunti, cioè possono manifestarsi realmente oppure possono essere presunti e poi farglieli fantasticare. Se vuoi introdurre, ad esempio, un antagonista trasgressivo, alle volte anche l'antagonista trasgressivo potrebbe essere, diciamo, rappresentato da una donna, ad esempio. Non è detto che sia necessariamente un uomo. Una donna molto trasgressiva ti prende un'amica puttana, tra virgolette, che ti porta a frequentare i suoi ambienti. Ti dice, ah, sono con una mia amica, poi magari se ce l'hai veramente la fai anche conoscere a tuo marito, così introduci pure un terzo elemento che ho il tuo compagno. Ti dice, no, adesso con questa mia amica qua, poi dici magari, sai che è una che frequenta anche gli scambi di coppie, oppure una che, insomma, conosce un sacco di persone. Insomma, devi dare modo, in modo tale che lui possa pensare che attraverso di lei vai a frequentare ambienti molto trasgressivi. E poi magari ti fai mandare dei messaggi, anche qua, metti il nome, magari, che ne so, memorizzo il nome, Mario Privé, per fare un esempio, è magari eccessivo, oppure Mario Locale. Non ti fai mandare dei messaggi, magari ti manda la tua amica che ha cambiato il numero di telefono, per dire, in modo tale che lui possa vederli, cioè, che ha cambiato il nome sul cellulare. Insomma, introduce una serie di situazioni in cui ci siano, come dire, delle tue possibilità di conoscenza con personaggi ambigui, trasgressivi. Trasgressivo vuol dire fuori dell'ordine, della normalità, insomma, da un punto di vista sentimentale vuol dire uomini molto libertini, che utilizzano pratiche particolari, dallo scambio, dal stato maso, insomma, introduce elementi di questo genere. Invece l'istituzionale, se vuoi introdurre un antagonista istituzionale, è per eccellenza il notaio, diciamo, integerrimo, e questo devi, in qualche modo, appunto, anche qua, trovare o una cosa presunta, o una cosa, come dire, reale, trovandoti degli escamotaggi, in modo tale che lui abbia la percezione che hai conosciuto una persona di questo genere. L'istituzionale va utilizzato, se ha a che fare con una persona trasgressiva. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se questo video ti è piaciuto, metti un mi piace e condividilo con i tuoi amici. Ciao!